Buonasera a tutti e benvenuti alla Night Session di giovedì 26 maggio. Sono le 22.58 e questa sera inizio in maniera molto diversa dal solito perché ci sono vari avvisi che mi hanno chiesto di fare. Il primo avviso è che, dato che questo è un periodo per me abbastanza sfidante per tanti motivi sia personali che di lavoro, mi trovo costretto a sospendere i corsi. Probabilmente ritornerò a farne dal vivo appunto, one to one sempre, a partire da settembre. Non so se riuscirò a farne altri per questo semestre. Secondo, mi hanno avvisato che sono arrivate molte più richieste del solito di fatture per chi, per carità, ovviamente decide di optare per il gruppo premium. Questa richiesta, abbastanza anomala rispetto al solito, verrà soddisfatta quanto prima come di consueto, con tutta la cura dovuta. Vi chiedo soltanto un po' di pazienza perché abbiamo varie altre cose importanti da concludere in questo periodo, ma soddisferemo tutti. La terza, il live webinar sui certificati che avremmo dovuto fare questa sera purtroppo è saltato per varie motivazioni. Come vi dicevo è un periodo estremamente faticoso e sfidante. Viene rimandato, segnatevelo, a martedì prossimo, 31 maggio, ore 18. Per cui, se volete capire come poter affrontare i mercati con strumenti differenti rispetto a quelli che magari vi vengono proposti dalle banche normali, anche perché magari vengono proposti in collocamento, mentre invece si possono comprare successivamente senza pagare commissioni, ecco, l'appuntamento è alla live che faremo martedì 31 maggio. Salve imprevisti, ok? Un'altra cosa che mi premeva molto fare era ringraziare uno di voi che, scoprendo il canale, ha visto che cosa si può fare su Bitcoin piuttosto che su qualsiasi altro tipo di mercato. E è stato così gentile da inviarci proprio a Tokos un pacco pieno di leccornie. Quindi volevo ringraziare molto Alviero che non è l'unica persona che effettivamente mi ha mandato dei pensieri. Lo apprezzo veramente moltissimo, davvero, perché non è dovuta come cosa. Per cui è un qualche cosa che va fuori dai rapporti che ci possono essere meramente tra clienti e professionisti. Ultimissima cosa, quinta cosa, domani sarò a Milano in Bocconi, per cui farò, avrò anche un pranzo di lavoro sempre in zona Bocconi, successivamente vedrò altri clienti ed altri amici, non so se riuscirò a fare questa volta una cena di trader, per cui aggiornerò come al solito le persone nel gruppo premium e vedremo che cosa si può fare perché davvero, come detto, ho non dei problemi in questo momento, ma tante opportunità, diciamo, di capire come gestire il tempo e soprattutto le energie. Adesso, finita la parte meramente amministrativa, diciamo, e collaterale a quello che si fa, torniamo noi. La cosa interessante che ho notato, perché ormai grazie a voi ho mille occhi, è che in tanti sono cascati in una partenza di nuovo T settimanale da qui, ma proprio tanti, ok? Se andate su TradingView vi potete fare una cultura ormai di gente che parla di ciclica senza grossa esperienza e da pochissimo tempo. Mentre invece noi ci aspettavamo proprio che si andasse in chiusura di un T settimanale. Per delle motivazioni talmente semplici e chiare, discusse appunto nel gruppo, di persone e di trader che coordino, che non siamo cascati in questa ripartenza, anche perché è stata veramente molto fiacca, peraltro. La cosa interessante è che siamo andati a Target. Siamo andati a Target. Ovvero siamo andati sotto questo minimo, questo minimo, e siamo andati sotto altri minimi, anche questo, peraltro. Per cui, ritornerei un attimo al video che avevo fatto ieri sera, in cui dicevo determinate cose. Tornando a noi, 1 e 2. Qui può aver chiuso il primo, T-1, inverso a tre tempi. E se parte il secondo, ritorniamo a spingere giù. Abbiamo già l'allarmino messo qua. Questo direi che è ciò che ci serve per muoversi durante questa giornata. Vedere se ancora si farà un piccolo top con candela verde, o con una candela verde prima di quella di top, ma comunque dopo la ventiquattresima barra, e poi si tornerà a scendere. Ok. Erano le 23 e qualche cosa. Che cosa è successo? Ho cancellato, per carità, dopo un po' va cancellato, appunto, quello che ho scritto. Hanno fatto un top superiore alla candela rossa precedente, ok? Con la candela delle 23 e 45. Ecco qua che già avevamo una condizione interessante per andare a chiudere a 25 barre il nostro inverso. Cosa che però è stata fatta più avanti. E poi siamo andati giù. Siamo collati esattamente come segnalato. E siamo andati giù quando è partita questa fantastica candela rossa, che purtroppo è arrivata tardi, è arrivata in ventottesima barra, quindi grazie, gentilissimi, davvero, e che poi fingendo una ripartenza, con una, due, tre, quattro, e un pezzo di candela sempre si fanno prima di alla discesa, ci ha portati esattamente al target dato ieri e negli scorsi giorni, peraltro. Perché negli scorsi giorni, che cosa avevamo anche detto nelle scorse analisi? Che, riguardatevi tutto, allora, il nostro annuale è arrivato a 310 giorni su massimo 336, che non è solo un annuale, ma decisamente potrebbe essere qualche cosa di più. Il nostro annuale inverso, in realtà, non ho ancora segnato, quindi aggiorniamo, è un minimo triennale, massimo quinquennale ribassista, che ha fatto il primo semestre su questo top, dove mi dicevano che avevo sbagliato ad avvisare gli odler, che era un assassino, che non lo so, e mi dicevano adesso si va a 50 a salire, e poi le analisi di altri canali sono scomparse, e invece siamo andati esattamente a target e a chiudere un annuale, che qui non poteva essersi chiuso su questo minimo, perché avevamo a 188 barre, e quante barre in minimo fanno? 192, ne mancavano 4. Da qui è partito un altro bel semestrale, che come vedete, peraltro è arrivato a 109 più 14, ovvero 123 barre, e siamo vicini alla durata media. Conto anche già per ora questa parte, perché in questo momento non è che siano stati violati degli swing particolari, a meno che tra un secondo non si violi. quindi questo massimo ha 31.500, e poi ci si diriga qui sopra, per ora, allarghiamo un pochino la nostra finestra, a parte essere pesantemente sotto le medie mobili, per primo abbiamo fatto un settimanale che ha ritracciato bene, per secondo abbiamo fatto un secondo settimanale che ha fatto i massimi qui, e poi è andato ancora più giù, e è possibile che si sia chiuso qui, c'è la condizione necessaria e sufficiente, adesso mi copiano anche i termini, però si dimenticano necessari, e mettono solo sufficiente. Però, appunto, bisogna capire che cosa a questo punto, bisogna andare a vedere dove lo swinger, che ci dice dove parte un T settimanale, dove può partire un mensile, dove può partire un B settimanale, e queste informazioni però il gruppo premium ce l'ha già. Queste informazioni sono fondamentali per muoversi, chi sbaglia gli swing, sbaglia i trade, e come detto, pensa che da qui sia partito un nuovo settimanale, perché non ha esperienza, vede qua se sto T-3 è ribassista, e pensa che si sia chiuso. Errore banale, tra l'altro. Mentre invece, chi si muove in questo modo, aspetta soltanto il momento per poter andare short, a chiudere il settimanale. E che chiusura, tra l'altro, perché qui siamo tornati sotto i 28.000, siamo tornati a 27.978, un odler, che avesse seguito il consiglio dato a novembre, si starebbe ancora leccando le dita, e valuterebbe se continuare a essere odler, o capire un metodo come l'analisi evoluta, la mia analisi evoluta, che dà costantemente soddisfazioni. Facciamo errori, ne abbiamo fatti di recenti, ma caspiterina ragazzi, con questa lateralità, non è facilissimo, giusto affrontare una cripto come Bitcoin. Leggo i commenti nelle chat, fuori dal gruppo premium, alcune persone non sanno più che pesci prendere, però intanto noi andiamo a target, target dati nei giorni precedenti, parlando di secondo, T settimanale che doveva andare a chiudere, B settimanale che doveva andare a chiudere, e dati con precisione ancora più assoluta nella giornata di ieri. Ok, quindi questa è la differenza tra le opinioni, per cui tutti possono dire una cosa o il contrario di quella cosa lì, per cui l'autorevolezza è pari a zero nei forum, non si sa chi parli, che esperienza abbia, eccetera, e invece questo canale, in cui sapete che c'è un lavorato in Economia e Commercio che ha fatto anche magari un esame interessante sui mercati, che poi ha avuto l'idea di andarsi a prendere un master mentre lavora in banca come gestore patrimoni e che attualmente lavora presso un SCF, una società di consulenza proprio, investimenti. Questo è un curriculum, fino a prova contraria, il resto, come detto, sono opinioni e qui a noi non interessano. Continuo a vedere commenti di gente che dà opinioni e noi, come dire, non interessano. Vi ringrazio, ma se non motivate i movimenti che vi aspettate dal mercato, per noi è come se ci diceste che magari questo agosto potrebbe grandinare per buona parte del mese. Sì, sì, interessante come opinione, ma boh, meteorologo? No. Per cui, ecco, le opinioni lasciano veramente il tempo che trovano. Le regole, invece, se osservate con attenzione e inserite in un sistema matriosca, ci permettono di avere una previsione che ci dice guardate che qui non ha chiuso il settimanale, siamo sicuri che non abbia chiuso il settimanale. Entro, avendo fatto un sesto di meno trento, cinque giorni, massimo sei, ma cinque giorni, basta ne avanza, noi andremo a chiuderlo con un minimo sotto questo minimo qui. E cosa è successo? Siamo andati qua, entro la tempistica data, oltretutto non target dati in tempistiche che o non si conoscono o a sei mesi o un anno che poi magari uno si dimentica che cosa è stato detto o fatto. No, no. Sono figlio di un ingegnere. controllo. Quando vedo una persona che sembra in gamba, immediatamente vado a verificare le analisi che fa, esattamente come può fare qualsiasi persona di voi, qualsiasi di voi qui su questo canale. E vedo se ne azzecca, ha più ragione rispetto a agli eroi che fa. E a quel punto lì, se scopo che è in gamba, inizio a chiedere come fa. Esattamente come penso che dovrebbero fare in generale le persone intelligenti che approdano su questo canale. Gli A3 li lasciamo perdere perché intanto sono interessati ad altro. Noi abbiamo un obiettivo differente. Noi abbiamo l'obiettivo di fare trading e guadagnare dal trading. Gli altri criticare, ma sono bravi tutti. Qui, come vi dicevo, la cosa interessante, importante, capire che se abbiamo comunque una condizione necessaria e sufficiente per andare a chiudere un B settimanale, non è detto che qua si chiuda, eh? E ci sono dei punti di controllo che ci permettono di essere chiuso oppure no. Il punto di controllo classico qual è? Ovviamente lo swing per il T settimanale. Quindi, dove passa lo swing del T settimanale? L'abbiamo già superato, a questo e questo e questo qual è? Se si sa come calcolare con la formula lo swing è di una semplicità, beh, non è proprio così semplice, ma, ecco, ragionandoci si arriva. Se invece non si sa che pesci pigliare, bene, si ritorna nel novero delle opinioni e a noi non interessano. Per cui, nel gruppo premium ho già segnalato dove lo swing, dove passa lo swing, swing per la partenza del T settimanale. In questo modo abbiamo un controllo assoluto su che cosa può succedere. Non assoluto, non esageriamo. Abbiamo un ottimo, un ragionevole controllo su che cosa può succedere in futuro, ma soprattutto ricordiamoci di inquadrare questo discorso nel fatto che qui rischiamo ancora di essere sull'annuale e quindi su un biennale che per ora ha massimi decrescenti, ok, massimi crescenti e quindi continua ad essere in divergenza ribassista. Può fare un altro massimo e poi rischia di ritornare giù. Oppure può fare ben poco rispetto ai massimi precedenti e ritorna a scendere. Bisogna sempre ricordarsi qual è il trend principale. Lo ripeto tu anche oggi al gruppo che coordino. Bisogna andare a ricordarsi il trend principale e fare attenzione a fare operazioni contro trend specie se sia alla fine di un animale. Si rischia di provare ad andare a fare un rimbalzo quando ecco un giorno dopo ci si sveglia magari con un allarme che non si è sentito la notte e qualche problematica di portafoglio. Qui quindi l'importante è trovare lo swing. Dov'è lo swing? era già questo. Con questo sappiamo se se qui è stato violato si può continuare a salire ma con il rispetto delle regole. Cosa serve per portafoglio di settimanale? Se non lo sapete chiedete gli appunti alla mail info chiocciola financial armor punto lo dico in troppi video non me lo chiedete più dov'è ok? Lo trovate nelle descrizioni dei video nei commenti che faccio sotto i video sotto quasi tutti i commenti di bitcoin eccetera eccetera è sempre la stessa tra poco cambierà ma vi avviserò per tempo per il resto come detto se qui fosse già violato possiamo ragionare di determinate cose ma ricordiamoci che sono due le condizioni per la partenza di un T settimanale sono due in realtà sono tre se vogliamo aggiungere al discorso dei volumi per cui attenzione a come si bisogna ragionare vi faccio un esempio soprattutto per chi è arrivato da poco sul canale dato che è importante anche il tempo e devono passare almeno 24 più 24 barre sopra un massimo per far partire un T settimanale le barre possono anche essere così e poi giù dalla 49esima in poi oppure possono essere così oppure possono essere così chi vi dice quale delle tre strade prenderemo? ve lo dice lo swing? ve lo dice il tempo? ve lo dicono gli swing di minimo? perché un'altra cosa interessante su cui riflettere è che noi siamo a 14 barre su minimo quanto? 24? giusto quindi ne mancano minimo 10 per andare in chiusura eventualmente di un mensile corto? sì 24 barre abbiamo detto se questa facesse già parte del nuovo settimanale sapete che cosa sto per dire giusto? se questa fa parte del nuovo settimanale bastano altre 10 candele quindi una spinta blanda per continuare a scendere e tornare sotto questo minimo sotto quello 26.591 dollari non abbiamo bisogno della partenza di un tp1 però so identificare lo swing anche per un tp1 anche per un tp2 anche per un annuale nuovo basta chiedere per cui qui noi abbiamo una cosa che mi ha permesso al 16 di novembre di lanciare un allarme gigantesco per gli holder e dire ragazzi se qui arrivano purtroppo anche volumi a ribasso e se poi arriva anche il tempo sono problemi grossi e ribadisco eravamo in zona ancora 60.000 adesso siamo a 29 quanto può aver pagato un'informazione di questo tipo? valutatelo voi ok? perfetto swing tempo saperemo se parte da qui il t settimanale oppure se miseramente ritorneremo ancora sotto perché se non parte un t settimanale bella la discesa bella la salita bisognerà controllare una cosa interessante siamo sicuri che da qui sia partito il quarto t-3 inverso e che è già arrivato a 45 barre ha già la condizione necessaria e sufficiente per adesso poi andare a spingere a ribasso e portare in chiusura che cosa? un t settimanale che è arrivato solo a 11 barre o andare in chiusura di un t-4 inverso prima di far partire e poi un quinto t-3 inverso se sono andato troppo veloce in generale se volete imparare la ciclica evoluta molto più rapidamente degli altri riascoltate tante 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 volte queste analisi più studiate e probabilmente uscirà anche una nuova versione degli appunti e più farete velocemente a fare anche da soli vi ringrazio per il vostro tempo e vi auguro una splendida serata speravo di riuscire a fare meno ma siamo andati oltre i 20 minuti quasi un webinar buona serata a tutti la mia sarà splendida anche se devo andare a correre a dormire perché sono domani a Milano in Bocconi non ci arrivo arrivederci grazie a tutti grazie a tutti